Siamo nella prima sala del Musso della Carta, dove facciamo vedere la produzione della carta a mano, il nostro maestro cartaio. In questi giorni di forzata in attività dobbiamo stare tutti a casa. Volevo parlarvi delle grandi famiglie dei cartaioi fabrianesi, noi abbiamo una tradizione da 1200 e vi ricordo che lavoravano tutti all'interno di un edificio. I mastri cartai facevano la carta, i ragazzi sui 12 anni giravano il palo per avere le fibre sempre in superficie, il cosiddetto bamboccio e poi le donne impermeabilizzavano i fogli, le ragazze erano sedute al cassone per scegliere i distragi, quindi tutto all'interno di una struttura di un edificio. E' per questo che vi diciamo restate a casa, ognuno di voi può avere un suo compito all'interno della casa, esattamente come facevano i grandi mastri cartai che avevano di un'intera. Grazie mille, no c'è.